In attesa del futuro, che è già adesso che il presidente Bacci, il direttore generale Galli e Galderisi si ritrovino attorno ad un tavolo, ci sarebbe da completare in modo positivo un campionato che positivo lo è già. Così la lucchese ha scelto l'acquedotto per l'allenamento dell'antivigilia della sfida di sabato pomeriggio alla quotata reggiana. Gli emiliani arrivano a Lucca sulla scia di un rocambolesco successo sul San Marino e con un terzo posto da difendere dall'assalto si fa perdire di spalle Pisa. La lucchese potrebbe anche fregarsene di tutto ciò e lo farà, visto che deve pensare a se stessa a riscattare le ultime sconfitte, tre di fila e questa team cup che poi non ci sarebbe da fasciarsi la testa più di tanto. Logicamente questa è una partita particolare perché è l'ultima in casa e ci teniamo tantissimo a salutare i nostri tifosi con una grande prestazione. Siamo arrabbiati per i risultati non ottenuti nelle ultime tre partite ma sicuramente non stupidi da capire quanto di buono abbiamo fatto. Dobbiamo fare una grande partita perché credo che questa lucchese per quello che ha fatto e per quello che si è meritato dobbiamo ancora una volta guadagnarci l'applauso ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Formazione antireggiana che va delineandosi anche per cause di forza maggiore. Prendete la mediana dove Pizze è squalificato e Mingazzini è acciaccata ad un polpaccio. Facile intuire che si potrebbe andare verso una linea con De Geri e Lo Sicco, sempre che il nano non voglia concedere una chance a Santeramo per esempio. Dietro probabile rientro di Masi tre pari anche se Pazzagli non ha sfigurato, mentre al fianco di Especie con Calistri non al meglio potrebbe toccare ad uno tra Risaliti e Cazè. In avanti il dubbio riguarda l'impiego della doppia punta centrale, Ferretti e Pagano esterni con Forte e Raicevic oppure uno dei due con l'inserimento di Scapinello che a Pontedera ha fatto bene nel classico ruolo di trequartista.